A chiunque si occupi di fotografia può essere capitato nella vita di dover fotografare oggetti di dimensioni inusuali. Per inusuali potremmo stabilire che qualsiasi cosa più grande di un essere umano adulto è un qualcosa di inusualmente grande. Stiamo parlando di oggetti che si fotografano raramente come possono essere per esempio un'automobile o un macchinario industriale. Nel corso del video di oggi andrò a raccontarvi come si fa a fotografare oggetti di grandi dimensioni, che cosa serve, quali sono le precauzioni da prendere e andremo poi a vedere qualche esempio pratico. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia. Oggi parliamo di oggetti di grandi dimensioni e di come fare a fotografarli al meglio. Per chi fosse nuovo e fosse appena arrivato sul mio canale il consiglio che vi posso dare è quello di iscrivervi subito in maniera tale che non perdete eventuali puntate successive su questo o su altri argomenti che possono essere di interesse se tutti quanti qui bene o male ci occupiamo di fotografia. Comincio col farvi qualche esempio di oggetti molto grandi che può capitare di dover fotografare nel corso della vita. La prima cosa che mi viene in mente è senza dubbio un'automobile, un'altra cosa che mi viene in mente può essere un elettrodomestico o un mobile, quindi potrebbe essere un frigorifero o uno scaffale. Andando sempre più nel particolare è possibile che ci troviamo a dover fotografare anche dei macchinari industriali. Faccio questo esempio non a caso perché più avanti vi farò vedere una delle fotografie più difficili che ho realizzato in vita mia degli oggetti di grandi dimensioni che sono appunto dei macchinari industriali non è stato facile, è stato più difficile della media anche se, e lo vedremo più tardi, secondo me le fotografie più difficili in assoluto quando si parla di oggetti di grosse dimensioni riguardano l'automotive. Adesso però facciamo un passettino indietro, cominciamo a cercare di capire come si fa a fotografare un oggetto di grandi dimensioni. Io vorrei dare per scontato che tutti quanti quelli che sono sintonizzati sul mio canale sappiano perfettamente che cos'è l'angolo di campo. Mi piacerebbe poterlo fare, ma non sono sicuro che tutti quelli che si sintonizzano lo sappiano a mena dito, per cui adesso andiamo a fare un ripasso molto veloce. Nel momento in cui abbiamo un dispositivo fotografico, potrebbe essere anche questo, abbiamo un qualcosa che si chiama angolo di campo. L'angolo di campo praticamente è la dimensione della visuale che noi abbiamo, quindi noi possiamo avere un angolo di campo ampio oppure possiamo avere un angolo di campo stretto. Nel momento in cui ovviamente abbiamo un angolo di campo ampio, riusciamo ad abbracciare una porzione maggiore della scena che abbiamo di fronte, mentre se abbiamo un angolo di campo più risicato avremo a che fare con un teleobiettivo che sarà quindi più adatto a fare dettagli. Abbiamo già capito che per fare delle fotografie di qualcosa di grande, ovviamente l'obiettivo più indicato non è un teleobiettivo, perché un teleobiettivo restringe l'angolo di campo e quindi restringe la parte della scena che riusciamo a vedere. Ora non è impossibile realizzare fotografie di oggetti di grandi dimensioni con un teleobiettivo, ma per farlo dobbiamo allontanarci da quello che stiamo fotografando e questo non sempre è possibile, perché se stiamo fotografando un'automobile in uno studio, per quanto lo studio sia grande non potremo andare 100 metri indietro. Lo studio avrà comunque una dimensione contenuta che potrebbe essere di 30 metri quadri, 50 metri quadri, 100 metri quadri, nei casi più strani, perché comunque anche quando si fotografa un automobile gli studi non sono super mega enormi. Secondo me con un 50 metri quadri è il massimo che possiamo ottenere nella maggior parte dei casi e quindi non potremo fare una fotografia di un automobile in studio con un 600 mm. È molto più probabile che utilizzeremo una lunghezza focale che ci restituirà un angolo di campo più ampio, in maniera tale da poter fare la foto del nostro grosso oggetto da più vicino. Personalmente quando fotografo oggetti di grandi dimensioni mi piace lavorare con una lunghezza focale compresa tra il 24 e il 35 mm. Ogni tanto mi capita di andare sul 50 mm lunghezza focale che non amo, però in quel caso già devo cominciare ad allontanarmi, per cui se devo fotografare qualcosa di grosso tendenzialmente sto tra il 24 e il 35, più o meno mi soddisfa quasi sempre. Ma vedo già delle mani alzate lì dietro giustamente e immagino che la domanda sia ma perché non usi una lunghezza focale diversa in maniera tale da avere un angolo di campo ancora maggiore? Ebbene, questa è un'ottima domanda. Io potrei usare per esempio il 17 mm o il 14 mm per fotografare un oggetto di grandi dimensioni, ma questo creerebbe dei problemi perché quando io scatto delle fotografie con un ultra grand angolo a un oggetto e quindi mi avvicino all'oggetto perché con un ultra grand angolo vado un pelo più vicino, a questo punto introduco una distorsione nella cosa che sto fotografando, quale che essa sia, che potrebbe essere nella maggior parte dei casi è assolutamente indesiderata. Quindi per evitare questa distorsione, anche se stiamo fotografando un qualcosa di voluminoso, preferisco fare un passettino indietro e usare una lunghezza focale un pochettino più lunga in modo da ridurre quella distorsione e comunque da non accentuarla avvicinandomi al soggetto. Lo spazio a disposizione ovviamente è un elemento determinante perché noi dobbiamo comunque tenere conto del fatto che se dobbiamo fotografare un frigorifero in un grosso salone espositivo non avremo problemi a indietreggiare per fare la nostra foto, ma se dobbiamo fotografare lo stesso frigorifero in uno sgabuzzino ecco che probabilmente l'utilizzo di un grand angolo spinto diventa la nostra unica possibilità per catturare l'oggetto nella sua interezza. Quindi queste sono tutte cose che dobbiamo tenere a mente. Per questo è importante quando si fotografano oggetti di grandi dimensioni farsi un'idea, chiedere se non si può andare lì a fare un sopralluogo, ma farsi comunque un'idea di quale sarà lo spazio che avremo a disposizione per fare questa foto. Una cosa di fondamentale importanza sarà la prospettiva e l'angolo che decideremo di adottare per fotografare il nostro oggetto. Per comodità ho qui un piccolo aiutante che è un cubo. Ora come potete vedere io posso fotografare questo cubo da tanti angoli diversi. Se io facessi la foto in questo modo per esempio, sì capirei grosso modo di che cosa stiamo parlando, ma sarebbe una foto noiosa. Come potete vedere le mancherebbe tridimensionalità. Se io invece andassi a lavorare in questo modo sarebbe già un pochettino meglio, perché in questa maniera ho la netta percezione del fatto che sia un oggetto con più lati quantomeno, quindi riesco a capire anche meglio le proporzioni, le dimensioni di quello che sto guardando. Se io vado a fare questa cosa, ecco che in questo caso abbiamo secondo me la perfezione più assoluta, ovvero una fotografia pressoché isometrica. In questo modo riusciamo a vedere che il nostro oggetto è tridimensionale, riusciamo a vedere quanto è profondo e quanto è largo. Questa secondo me è l'angolazione migliore per andare a fotografare un oggetto, anche se non sempre abbiamo a che fare con oggetti di proporzioni regolari. Quindi potrebbe essere necessario andare a tiltarlo un pochino e realizzare qualcosa di questo tipo o di questo tipo, a seconda del tipo di oggetto che stiamo andando a fotografare. Probabilmente ci sarà un lato più importante degli altri, quindi ovviamente se è, come abbiamo detto, un frigorifero con un'anta, io andrò probabilmente a mettere la parte principale, l'anta del frigorifero, sul lato a cui do maggiore rilevanza. Non andrò a metterla su questo lato che quasi scompare, ma l'andrò a mettere sul lato che si vede maggiormente inquadrato. Come potete vedere l'illuminazione gioca anch'essa un ruolo fondamentale. In questo particolare esempio noi qui abbiamo tre lati visibili e sono tutti e tre illuminati in maniera diversa. Ora questo può fare il nostro gioco perché può aiutarci a introdurre tridimensionalità. Nel momento in cui stiamo realizzando uno still life per un oggetto diciamo importante, quindi un prodotto costoso banalmente, secondo me questo non è l'approccio più indicato, o meglio noi possiamo arrivare a un risultato di questo tipo, ma è più indicato avere più luci a disposizione in maniera tale da andare a pareggiare le superfici. Quindi come vedete per esempio in questo caso, mettendomi in questa posizione io pareggio la luce su queste due superfici perché arriva tutta dalla luce principale. Questa stessa cosa io voglio poterla fare in tutte le posizioni e quindi mi servono delle altre luci per andare a illuminare tutti quanti i lati. Se non dovessi avere le luci possono essere sufficienti dei pannelli. Vedete che è sufficiente mettere qui la mia mano per riflettere parte della luce su questa superficie e quindi io magari anche con una luce sola con dei pannelli magari riesco lo stesso a ottenere l'effetto che desidero. Ovviamente con più luci me la gioco meglio perché metto una luce per ognuno dei lati dell'oggetto che voglio fotografare e se è uno still life anche qualche lucetta per lo sfondo. Visto che parliamo di oggetti di grandi dimensioni io ne consiglierei almeno due per lo sfondo. Vado adesso a farvi un esempio come promesso all'inizio. Queste che vi faccio vedere sono fotografie di macchinari industriali che ho realizzato tempo fa. Credo che abbiano un paio d'anni queste foto. Questi sono dei macchinari giusto per darvi un po' di contesto abbastanza grossi, impegnativi. Uno solo di questi macchinari è grosso abbondantemente come un frigorifero americano a due ante. Questi macchinari nello specifico che se ricordo bene erano delle stampatrici a rullo o qualcosa del genere avevano a che fare con la stampa di etichette se ricordo correttamente. Non le ho viste in funzione purtroppo quindi non me lo ricordo. Le ho fotografate ma non le ho viste funzionare. Queste macchine possono essere concatenate tra loro quindi vanno a creare un macchinario ancora più grande perché vengono a essere messe in catena tra di loro per cui diventa un qualcosa di veramente un po' importante da fotografare. Ovviamente per realizzare le foto è stato necessario andare a blindare tutta quanta la zona costruendo un fondale attaccando diversi fondali in carta bianca perché uno non era sufficiente e andando poi a illuminare l'ambiente in maniera tale da ottenere l'effetto desiderato. In questa particolare circostanza c'era anche una difficoltà supplementare ovvero le pareti in vetro perché come potete forse intuire da queste immagini ci sono delle parti in vetro che riflettono molto e quindi nel momento in cui io vado a illuminare questo lato quindi io sto fotografando da lì questo oggetto e vado a illuminare questo lato per cui ho messo una lucetta qua una lucetta qua che va a illuminare questo lato ma quella lucetta si riflette dentro nel portello luminoso. Ora per evitare lo spiacevole effetto di avere una luce da studio riflessa nel vetro che quindi svela in maniera molto chiara e netta che è stata fatta una fotografia da un fotografo professionista con delle luci è un effetto che non è particolarmente piacevole perché io voglio dare al mio osservatore l'idea che quella sia una macchina perfetta custodita nell'iperuraneo e quindi che non sia stata neanche fotografata ma che sia nata così per generazione spontanea quindi non voglio vedere il mio set riflesso dentro nell'antina. Per questo motivo realizzo diversi scatti realizzo degli scatti con le luci che illuminano lo sfondo dopodiché accendo le luci che illuminano il frontale della macchina ma faccio anche degli scatti con le luci spente in maniera tale da avere le parti di vetro senza il riflesso della luce vado poi a miscelare in post produzione per avere il risultato quanto più perfetto possibile. Un'altra cosa che ho fatto una cosa che in pochi fanno e forse si smetterà anche di fare perché porta via un po' di tempo e spesso si possono trovare delle soluzioni migliori ho utilizzato un filtro polarizzatore circolare per andare a ridurre ulteriormente qualsiasi tipo di forma di riflesso dalle parti in vetro. Il polarizzatore circolare fatemi sapere in un commento se vi interessa potrei fare un video dedicato solo su questo è un filtro che va a rimuovere qualsiasi tipo di riflesso dalle superfici di vetro e dagli specchi d'acqua non funziona sul metallo quindi mi sarebbe stato comodo che avesse funzionato anche sul metallo certe volte invece no funziona solo su vetro e acqua e rimuove la foschia quando si fotografano paesaggi è un filtro molto carino di cui sono molto soddisfatto fatemi sapere se vi interessa un contenuto dedicato soltanto su questo tipo di filtro e andrò a realizzarlo apposta per voi ma vi avevo promesso di parlarvi in coda delle fotografie automotive di come si fotografa un automobile e di perché secondo me sono le fotografie di grossi oggetti più difficili in assoluto ebbene amici immaginatevi l'automobile come una immensa massa di vernice traslucida e superfici cromate e di vetro ogni singolo pezzo dell'automobile riflette l'ambiente circostante a me è capitato di fotografare automobili all'aperto quindi alla buona e mi è capitato di fotografarle in studio ora mentre all'aperto te la giochi perché comunque dici siamo all'aperto quindi la macchina riflette tutto quello che ha intorno ma è normale siamo all'aperto e quindi è accettabile in studio non è accettabile in studio la macchina non deve riflettere niente se non avere esattamente i riflessi che noi vogliamo è molto simile a fotografare un orologio vi lascio in card un paio di video che ho già fatto su questo argomento gli orologi sono piccoli ma il procedimento è esattamente lo stesso nel momento in cui io vado a fotografare un automobile io devo gestire ogni singolo riflesso sulla superficie dell'automobile e questo è maledettamente difficile perché l'automobile riflette qualsiasi cosa nella mia esperienza il modo migliore per fotografare un automobile è usare un softbox di dimensioni giganti in maniera tale da creare un gradiente molto diffuso su tutta la scena e in questo modo forse ci si porta a casa l'immagine con uno scatto singolo in alternativa e questo per me è più soddisfacente spesso e volentieri però porta via anche molto più tempo ce la si può giocare a luce singola quindi fingendo che questa sia la nostra automobile ce la si gioca a luce singola e si fa uno scatto con la luce qui uno scatto con la luce qui uno scatto con la luce qui si gira intorno alla macchina uno scatto con la luce sotto per illuminare il sotto della macchina il terreno le ruote i pneumatici per fare le trasparenze quindi attraverso il passaruota e magari attraverso i finestrini per fare delle trasparenze attraverso i finestrini insomma illumini ogni singolo pezzo della macchina separatamente in maniera tale che per ogni esposizione la scena sia nera con solamente la parte illuminata che viene esposta quindi un studio pressoché oscurato con i flash una cosa che si fa tranquillamente porta via molto tempo perché per fare una singola posa di un automobile magari bisogna fare 20 scatti è una cosa che io faccio ogni tanto mi piace abbastanza mi diverte farlo e il risultato viene fuori in maniera assolutamente appagante ma è molto molto lungo e questo secondo me rende la fotografia automotive una delle cose più complicate che possiamo fare quando fotografiamo oggetti di grandi dimensioni a questo punto io direi che ci fermiamo qui perché voglio mantenere i contenuti un po snelli e interessanti e non farli troppo lunghi e mattonosi vi invito a farmi sapere in un commento se c'è qualcosa di questo video che volete vedere approfondito fatemi sapere anche se avete mai fotografato qualcosa di più grande di un automobile perché a quel punto sappiatelo vi invidierei vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale per non perdere i successivi episodi e le risposte in forma di video breve ai commenti che mi lascerete qui sotto dove ovviamente vi aspetto numerosi signori è stato un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video ciao